sentiamo ecco qui era il casello e 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 domenica il 10 io mi distello e 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 facciamo raccontare una storia speciale dove siamo siamo in uno dei ricoletti di ecco perché io avevo detto di dove in questi ricoli in questi in questi giardini in questi palazzi ehm c'era anche tanta tanta a destra siamo alla corte di Carlo di Borgone invece il quarto della reggia e allora quando io in questi ultimi mesi ho girato per fare chat si gira le quattro giornate di Ercolano ho preso delle informazioni precise e specifiche per sapere cosa c'era perché un popolo straordinario c'era questa osteria e una volta la tua voglia la mia idea è quella di riportare recuperare 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 di come mettere in un'osteria perché come vedi nelle le 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 le